Amici di Xtreme Hardware, quest'oggi diamo un veloce sguardo alla FlipView Cover per Asus Zenfone 2. Si tratta di una cover intelligente, una cosiddetta Smart Cover che, come ho già scritto nella recensione, è costituita di due elementi. Il primo è questo frontale, vedete, con questo cerchio ritagliato al centro, il secondo elemento è quello posteriore che si va ad inserire al posto della back cover originale del dispositivo. Perché una Smart Cover? Perché in sostanza si integra perfettamente con il telefono, in particolare c'è una funzionalità apposita del sistema operativo che permette di aggiungere funzionalità al dispositivo se si utilizza questa tipologia di cover. Come vedete, infatti se noi apriamo la cover si accende il display del telefono, se la richiudiamo si genera questo mini display, possiamo chiamarlo circolare, all'interno appunto di questo retaglio della porzione frontale della cover. Abbiamo varie funzionalità integrate, ve le facciamo vedere. C'è ovviamente l'orologio, possiamo tra l'altro scegliere tra varie tipologie di orologio con anche la notifica di eventuali mail, sms o chiamate. Vedete che ne abbiamo davvero moltissimi tipi sia analogici che digitali, basta cliccare per modificare la tipologia di orologio che vogliamo utilizzare. Spostandoci sulla destra abbiamo poi il meteo, possiamo anche vedere sia le previsioni per la giornata odierna che le previsioni per le giornate successive. Possiamo poi spostarci sulla fotocamera in modo da attivarla in maniera più rapida. Abbiamo alcune impostazioni personalizzate, veloci, come per esempio la regolazione dello schermo all'interno appunto del cerchio, l'attivazione del silenzioso, la modalità aereo e dell'audio. Possiamo poi attivare per esempio la torcia, cosa molto utile nel caso in cui avessimo bisogno di attivare per qualche momento il flash. Non dobbiamo andare a cercare l'applicazione all'interno dell'app drawer. Possiamo controllare la musica che stiamo ascoltando, possiamo controllare degli eventi oppure le liste delle cose da fare e possiamo poi inoltre muoverci in maniera rapida tra tutte queste impostazioni. Basta cliccare sul sul cerchio esterno e come vedete possiamo appunto muoverci tra tutte le varie impostazioni personalizzate di questa cover. Come vedete quindi si tratta di un prodotto molto particolare, non è soltanto una semplice cover, è una cover possiamo dire intelligente che aggiunge delle funzionalità interessanti al dispositivo, sicuramente molto comoda quando capita di dover prendere e posare il telefono in continuazione, per esempio nel mio caso durante alcune camminate in montagna capita di dover prendere il telefono per scattare delle foto, non c'è neanche bisogno di aprire la cover, si va subito qua sull'applicazione rapida diciamo della fotocamera, si attiva la fotocamera e si scatta la foto molto semplicemente. Sicuramente è una cover che costa anche più delle altre però per le funzionalità che aggiunge al dispositivo si tratta a mio avviso di un ottimo prodotto quasi irrinunciabile per chi vuole dare un tocco di originalità e un pochino di personalizzazione al proprio dispositivo.